Non sono assolutamente inevitabili, 4.000 superi è solo quello che si comincia a vedere perché dopo ci sono tutti quelli degli appalti che non sono presi neanche in considerazione e l'idea che si vada a fare la cosiddetta ambientalizzazione un po' da tutta Italia che facciamo? Portiamo i genovesi a Taranto? Sembra un po' sconvolgente la proposta che è stata fatta considerando che l'Italia è il secondo paese consumatore di acciaio oltre che produttore, ricordiamolo sempre significa che non ci interessa più l'industria in questo paese